Anche per questa stagione estiva Legambiente torna a fare le proprie proposte per un turismo alla scoperta del nostro straordinario paese. Lo facciamo ancora di più e con più forza in questa particolare stagione in cui ci troviamo a fare conti con un momento economico molto delicato per il nostro paese e il settore del turismo rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra regione e non solo. Quello che ci appelliamo a tutti quanti è affinché l'ambiente diventi il vero valore su cui lavorare e su cui puntare attraverso la sana valorizzazione delle ricchezze naturali ma anche l'adeguamento di servizi al cittadino e ai turisti che mettano al centro la sana valorizzazione dell'ambiente che permetta di conoscere più da vicino e più possibile attraverso formule di turismo esperienziale quelle che sono le ricchezze del nostro paese. E lo facciamo attraverso due strumenti, la storica guida blu che promuoviamo con il Touring Club italiano che da anni valorizza le principali mete marittime e lacustri che investono proprio su questo mix ambiente e servizi che lo rispettano e quest'anno abbiamo voluto proprio per rafforzare ancora di più le proposte per la ripartenza del nostro paese abbiamo promosso un'ulteriore guida che trovate sul sito del touringclub.it vacanze italiane in cui vengono riportati i principali percorsi all'insegna della scoperta delle tantissime eccellenze che abbiamo nella nostra regione in tutto quanto il paese.